Oggi prime aperture di uffici e negozi dopo le vacanze, traffico sostenuto sulle strade. Allora facciamo il punto sulla situazione con Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità. Alessandra a te. Sì, grazie Isabella. Traffico da bollino giallo confermato per i rientri, come dicevi tu, da studio, dalle località di veleggiatura con la ripresa delle attività lavorative. Al momento si registrano flussi veicolari vivaci, come monitoriamo in real time, sull'A1 e abbiamo delle code, direttrice sud-nord tra Anagni e diramazione Roma-sud in direzione Firenze, dove peraltro si è verificato un tamponamento tra due auto. Code anche in ingresso alla capitale in direzione della tangenziale est, code a partire sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio in direzione San Giovanni, dove peraltro si è verificato un incidente proprio in direzione San Giovanni. Code anche sul grande raccordo anulare tra lo svincolo di Via Pontina e il bilio dell'aeroporto di Fiumicino. E tutto restituisco alla linea. A te Isabella. Grazie Alessandra Canale.